Buon pomeriggio dallo Stadio Città di Torno Azzola, ritrovati su Stadio 5.2, scusate sulla piattaforma, il giro destro, vediamo come sono disposti, da piccola madonna sulla corsia di destra e da di perversaria della sezione di valentona, e si parte, primo giro al pallone, chi viene dato il giro? Salvatino, a chi se lo prova? Oh, Duka! In avanti, l'unico idea! L'unico, la Gianna, seguiamo il casuale, con l'amico, pensate alla pari, con solo maldini, li prende e ataccare il giasco, trogna, il giro, il giro, il giro, la sacerdale, non ti fa, 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 non ti fa. di febbraio, invece azzarda il controllo, riesce col tappo, poi addirittura la conclusione, arriva, anche i 4 uomini della gianna a saltare, finita di mio figlio, parte Pinto, pallone che spinta, poi Causinio, a giro, con il destino, di più, per questo è un'opportunità davvero importante, che le d'ausilio, e con dei passi, fatte d'ausilio, il palo vi richiede, la fermo è di l'occhio, un bello, un da di petto di te, il santo di madonna avuta l'intervento pecorino, c'è un pezzato, vieni con le mani, sbaglio iniziano un po' di prima, iniziano un po', sbagliato, perna, di primo, lo tuoi, Ferrari, poi paponee allargate, come c'è, la fungione, la fungione, la sinfonio, arrivato in da estro, sbagliato, sbagliato, perna, il puro, bambino, che poteva, vale la chiusura anche il tonico, dice, dove è fuori noi, tutto il piano, poi è un po' di sotto, Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. 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 Sì.